I grandi brand del settore delle auto sono sempre più votati, in questo periodo storico contraddistinto da innumerevoli rivoluzioni, verso obiettivi di forte a uno di questi è senza dubbio quello della diversificazione, ampliare e arricchire il proprio carnet di auto e di proposte, di innovazioni e di apporti, per potenziarsi sul mercato. Di certo una delle multinazionali più avanti in questo senso è la Toyota, il colosso nipponico, dà una vita al centro della scena per le sue ottime auto, continua a creare tra le ragioni del successo della Toyota, ovviamente al di là della qualità in quanto tale delle sue auto e delle sue progettualità ad ampio raggio, è proprio nelle sue scie. Spesso, se non sempre, votate verso il concetto della diversificazione, un tema che del resto è caro a tante altre competitor, ovvio, perché risulta sempre più indispensabile in un momento nel quale il mercato caracolla ma, nonostante questo, richiede specificità. Le grandi aziende produttrici sanno di dover cercare di accontentare tutti i mercati, tutti in un momento nel quale il mercato caracolla e così la Toyota mette sul mercato appunto tutto il suo ricco carnet diversificato, dalle utilitarie ottime e low cost, alla sua straordinaria costo. Stiamo parlando di un vero gioiello, quello che Toyota ha in carrello, con un costo pari a 150.000 euro in confronto, a livello di qualità, bellezza e fascino, con la Ro, un prezzo caro, ma che di base parte da un concetto minuzioso di analisi. In particolare si parla della Toyota che sta per sbarcare a circa 170.000 dollari, pari a oltre 150.000 euro, per appunto. Ad oggi stando al cambio staremmo sui, in particolare sì, un prezzo che, per intenderci, sarà pari a 5 volte in più rispetto a una Land Cruiser. Secondo i ben informati, la Toyota, che per alcuni dovrebbe chiamarsi Century, un prezzo che, per intenderci, sarà pari a 5 volte in più rispetto a una Land Cruiser.